In 18 province si contano oltre 150 casi covid per 100.000 abitanti. Sono tutte al centro nord. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 17-23 novembre 2021. Quando l'incidenza supera i 150 casi per i 100.000 abitanti, dice Nino Cartabellotta, gli amministratori devono decidere eventuali restrizioni mirate per arginare la diffusione. Per la quinta settimana consecutiva aumentano a livello nazionale i nuovi casi settimanali, con una media giornaliera quadruplicata se si confrontano i contagi che si registravano il 15 ottobre con quelli del 23 novembre. L'aumento trascina verso l'alto, le curve sul fronte ospedaliero. I ricoveri con sintomi crescono del 15,8% e le terapie intensive del 16,4%. Al momento non c'è l'obbligo dell'utilizzo della mascherina all'aperto, ma laddove all'aperto ci sia un assembramento, già con le regole in vigore, c'è l'obbligo. Anche qui ci vuole un po' di buonsenso, raccomanda il ministro agli affari regionali Gelmini. Anche qui ci vuole un po' di buonsenso.